Ciao amiche, come promesso sono in arrivo tante nuove ricette semplici, veloci ed economiche proprio come queste buonissime polpette vegane senza uova, senza glutine e pensate, io le ho introdotte nella mia alimentazione, bensì le carote naturalmente se si è inizio percorso di questa purtroppo in me allergia al nichel basterà sostituire le carote con della zucca vi lascio nei commenti le quantità se voi le vorrete sostituire guideline, the red stop sign, no room to go slower you do it today, you do it again in a week you're a fake, you're a freak, you're a parasite sucking a leash come on man, it's over yeah it's over, it's over now what a waste of time what a waste of time what a waste of time